E' dovuta sottostare alle regole del gioco democratico. Per questo Rosa Calò ha abbandonato Palazzo Gentile. L'ormai ex vice sindaco, rea di non aver più un partito di appartenenza, ha dovuto infatti fare le valigie. La professoressa non ha voluto rilasciarci un'intervista, ma ha spiegato la sua decisione in una lunga lettera di dimissioni, nella quale invita il sindaco Michela Baticchio, a riflettere sulla dimensione della rappresentanza politica. Le sue parole hanno scatenato numerose elevate di scudi da parte di cittadini e politici, gli stessi che hanno investito di polemiche anche la nomina di Rosalba Camasta, giovane bitontina in quota 70032, città in movimento. Non sono una politica, il mio lavoro è e sarà un altro, ma mi è stata data la possibilità di interessarmi a materie attinenti alla mia formazione e al mondo giovanile di cui faccio parte. Quindi ho deciso con grande umiltà di dimostrare, di mettere a disposizione il mio impegno alla comunità. Dal 2 luglio la 26enne è assessore a politiche giovanili, porta futuro, orientamento al lavoro e cura degli animali residenti sul territorio. Deleghe non capite della cittadinanza, su cui lei ha iniziato subito a lavorare. Ho incontrato già la dottoressa Silvana Di Mundo della Polizia Municipale di Bitonto e successivamente sarà mia cura incontrare tutte le associazioni proprio per discutere insieme delle varie problematiche e lanciare una serie di iniziative. Camasta ha concluso da poco il suo percorso di studi e ha appena cominciato la sua carriera da farmacista. Consapevole dunque delle problematiche che investono i neolaureati, ha subito pensato a iniziative che possano aiutarli nella ricerca di occupazione. Sulla mia pagina Facebook ho già lanciato un form Bitonto Giovani che ha proprio lo scopo di informare e di diffondere notizie ai giovani. Per quanto invece riguarda porta futuro è un progetto che ha proprio l'obiettivo di avvicinare la domanda e l'offerta. È già in predisposizione una gara di appalto per la gestione e l'obiettivo che mi sono posta con il sindaco è quella di lanciare in anticipo tutte le iniziative di questo progetto. Sul fronte cura degli animali residenti sul territorio invece la neoassessora si spenderà per avviare campagne antiabbandono e di sensibilizzazione nella cura e tutela degli animali. Verrà anche inaugurata una zona di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e infatti con Micheli abbiamo già individuato la zona.